schermo a vivere 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 tutto è top allora torniamo al su su un su un aspettate un attimo oi dai 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 io e da qua non si vede nocce anche saliamo fino alla top 100 no no ma 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 cosa no no è forse si non ah 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 prendiamoci un po di erba alti terra, piuttosto sono un po' consumati quindi la delita è proprio ciao da quel paese meno il tretto dallo meno che è bene �imani c'è un intero è qualcosa di lato e colpino ecco io lo sapevo eh oh la ghiaglia grazie non deve servire pensavo fosse finito giuro non mi ricordate quante mosse forse è finito solamente la prima parte ragazzi ma grande stanco sono ritornato qua ma perchè non mi voglio mangiamo lì devo aggiungere dei chunker ma se non c'è un po' piccoli piccoli devo fare magari finisce così per i resti posso e poi non ci vuole niente da arrivare se vuole dentro non ci vuole non ci vuole non ci vuole devo vedere no? il mio canale mmm buonasera no è vera questa cosa io non lo capisco non ci vuole ritorniamo eh ritorniamo eh ritorniamo vediamo qua vediamo qua cosa troviamo ragazzi vediamo keep jump non abbiamo ancora slime jump special dropper sì mi piace vediamo 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 no ninja ci sto ho detto no ninja ah ci sto proviamo alleluia 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 un alati che due trofe eh 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 caro caro come talk of the bells Bucs troffi caro a freddo 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 who h indulge hey what what E dove dove andare? Andiamo al fà! Ah, che legato! Buongiorno! Buongiorno! la un 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 E' vera, è vera, è vera. Come la, 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 la. Questo fa sì che non riesca a... Ciao! È difficile! Pensate che nella vita reale quanto sarà difficile! Per cui? 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 e e e non 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 Dottombe. 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 Non, ma cittur un po' le chetene di dirsi suono che la fingerenza per sépire, non, ma cittur un po' le chetene, che dice grazie sulla tua con il cutinese. Ma è, non, ma iloo chien, ma iloo ne consiste da andare a parlare. Ah, ma tu ne sai pare che tu ti as toccate? Non, ma tu non sai perché le chetene sia la prenda che si è la precedente, ma città non ma iloo, ma iloo. Juste ma, non, 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 non. Non ce ne se fa so, non è falso, non il pote lo so, non, 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 non. ciao ciao io voce e vorresti si è che io più o meno la donna cosa bene non mi piace per fare un'ora ma devo conchetto ancora con sa per cadere sa per fare vuolevi volevi, guarda che faccia, guarda che faccia, non se l'aspettava ho 11 iscritti, sto guardando i miei video, 2, 1, 3 iscritti, ho al massimo 1 non ho mai provato, non ho mai provato non ho mai provato non ho mai provato, non ho mai provato, non ho mai provato. rispondi all'attacco di palle di fuoco del gas alleluia rispondi alle palle di attacco di verde bluah bluah ah 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 si rispondi all'attacco di palle 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 a 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 quasi Così Sei stanco? Cugino, cugino, cugino E' un quadro di frate E' un quadro di frate Come prendo il frate Adesso prendo il frate Suleme e il frate E' un quadro di frate Ma la fai sempre Non, 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 non C'est un quadro di frate E' un quadro di frate Un quadro di frate Un quadro di frate Deveixer T'aipetito di farla. Non è solo quello che prima che poi fa! Si, non è solo come. Ah, ma, ma è solo il clique, wanti? Ah, ma non è fissuto. Nessuno, scopriливоciate! No so che il capisco. Non te fissuto di sa! Ma non adesso vuoi farlo? Alla prossimo! Ma se è andata assicza, assicza che ti prendi un'ora più divertente! a a a a e ciao perché no 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 oh oh ok non ti fai mai capace mia grazie non ti fai mai capace non ti fai mai capace vai faccio vai faccio ma non ti fai ciao vai vai non ti fai yes evet Grazie. 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 ...ica... ...ma, come io l'ho capita? Mm... Ho giuro! Io ho stato insultato al ninja for heaven, però state calmi. hmm... Ih... Ciao, ciao! No, tbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbwhb constantly. e questo è un perito, e non? e non? e non? perito? ciao o perché si rompe questo è il problema e e e e ciao ragazzi ciao